Tre mostre d'arte da visitare assolutamente in Europa e nel mondo, direi in questo caso, dal vostro artista che ama le mostre e che a volte le mostre le fa, una in Germania, una in Svizzera e una negli Stati Uniti, un video short. Dunque, la prima mostra è la mostra di Christian Lue a Reimagen in Germania, è una mostra molto interessante perché questo artista, diciamo, la sua ricerca è un po' a metà tra quelle che sono una sorta di continuazione ideale, evidentemente, delle ricerche di Joseph Beuys con anche dei riferimenti al cosiddetto New Dada e anche all'arte povera italiana. Sicuramente se conoscessi, se ne parlassi con lui avrebbe forse da ridire rispetto a queste mie classificazioni, ma comunque, ecco, è sicuramente una mostra interessante, questa di Christian Lue all'ARP Museum di Reimagen in Germania e comunque saltano all'occhio, almeno da quello che ho visto, questi riferimenti che vi ho appena fatto. Poi la mostra, sostanzialmente, la retrospettiva dedicata dal MoMA PS1 di New York al RearCrit Tiravania, un nome complesso, un artista, diciamo, anche molto celebrato, ecco, nel contesto dell'arte contemporanea internazionale, e in questa mostra in particolare, grande spazio viene data alla parte video, alle fotografie, diciamo, alle installazioni, poi a tutta quella, diciamo, componente che è poi quella più famosa anche dell'opera di Tiravania, cioè tutte le opere di cosiddetta arte relazionale, qualcosa a metà, cioè opere che coinvolgono il pubblico, quindi qualcosa a metà tra la performance, diciamo l'happening stile Flaxes degli anni 70, e le nuove forme appunto di arte relazionale anche con l'uso di strumenti digitali e di alta tecnologia, diciamo così, o della tecnologia oggi più avanzata, e poi una mostra più storica, che è quella a Mendrisio, in Svizzera, al Museo di Mendrisio, di Roger de la Fresnée, un artista che ha attraversato parte del Novecento, e nel caso della mostra a Mendrisio, diciamo, la mostra è concentrata in particolare sulle ricerche cubiste di Roger de la Fresnée degli anni 10-20, fino ad arrivare poi all'opera più, diciamo, alla sua opera più tarda, che è caratterizzata una maggiore tendenza, diciamo, tradizionale, figurativa. Iscrivetevi al canale YouTube se volete essere sempre informati sulle novità del mondo dell'arte e anche se volete seguire le mie varie attività artistiche, seguitemi anche su Instagram, Giuseppe Alletto, Visual Artist.